E' uno schifo, è uno schifo. Rabbia e indignazione nelle parole di questo cittadino che preferisce non essere ripreso dalle telecamere. Rabbia per lo stato di degrado e di abbandono in cui è risprofondata la città capoluogo di provincia. La tregua è durata davvero poco. Da alcuni giorni Vibo Valencia e Frazioni sono nuovamente sommerse dal pattume. E non c'è solo la spazzatura a preoccupare gli abitanti di Vibo. Sotto Santa Rubba, di fronte a Santa Rubba c'è una discarica d'amianto. Il motivo di questa nuova emergenza è causato dalla chiusura dell'impianto della Daneko di San Pietro Lametino, dove confluiscono i rifiuti del Vibonese. Giovedì lo stop dell'azienda che ha chiuso i cancelli per problemi strutturali, mandando in tilt l'intero sistema. L'emergenza, precisa l'assessore all'ambiente Pietro Comito, sta rientrando. Proprio ieri la Regione Calabria ha autorizzato il conferimento nella discarica di Siderno. E se a Vibo è ripresa la raccolta, resta critica la situazione nelle marinate. Questa è via delle industrie, trasformata in una micro discarica a cielo aperto. Qui ci sono rifiuti di ogni genere, frigoriferi, materassi, oltre a decine e decine di sacchi dell'immondizia che costeggiano per diversi metri l'intera carreggiata.